Ciao a tutti, oggi prepareremo il ragù bianco. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e trenta minuti circa. Gli ingredienti sono carne tritata, salsiccia senza budello, sedano, cipolla, carota, rosmarino, pepe, vino bianco, alloro, olio evo, acqua, sale e dato vegetale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il sedano, la carota e la colla e li facciamo tritare per 3 secondi a velocità 6. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio, l'alloro e il rosmarino ed insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungere la carne tritata, la salsiccia senza budello, il sale, e il pepe. Ed azionare il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Aggiungere l'acqua, il dado, e cuocere con il cestello al posto del misurino per 50 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Aggiungere la carne tritata, il ragù è pronto. Ragù bianco, ideale per condire la pasta. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie! 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 Grazie!